Ragazzi buongiorno e bentornati sul canale del Coach i 10 mesocicli inseriti in massa naturale Come sapete ogni anno esce nel periodo di agosto, fine agosto la mia programmazione annuale dedicata a tutte le persone che si allenano in palestra o anche a casa con attrezzi, quindi bilanciere, manubri o anche macchine isotoniche ormai sarò al dodicesima, tredicesima, quattordicesima programmazione, ho perso il conto ma lo scopo di questa programmazione è cercare di dare una pianificazione a lunga scadenza ecco chi di voi vuole essere aggiornato trovate comunque qua sotto, ho messo un link lo vedrete qua sotto in descrizione su come fare per iscrivervi e ricevere poi tutte le notizie in merita e nel mentre andare a scaricare il manuale gratuito che ho preparato proprio in preparazione di questo launch, di questa programmazione annuale 2024-2025 si chiama la massa naturale il mio scopo è allenare persone che si allenano in maniera naturale e vogliono ottenere un fisico atletico, armonico, muscoloso appunto in maniera naturale e quindi queste programmazioni sono ormai ambite da migliaia di miei allievi ogni anno sono prese come spunto da tantissimi trainer che se le scarica, se le studiano proprio come un momento di formazione perché ogni anno cerco di inserire strategie differenti rispetto a tutte le altre programmazioni e quindi anche quest'anno mi sono divertito a costruire questo percorso d'allenamento con delle tecniche utilizzate da alcuni coach famosissimi internazionali altre rivisitazioni mie, il tutto per trovare un qualcosa di realmente impegnativo, efficace per tutti voi che ormai vi allenate da tanto con me quindi anche quest'anno penso che il lavoro sia ben riuscito, sia piacevole da mettere in pratica e come sempre all'interno di questo percorso troverete sia la programmazione in monofrequenza che in multifrequenza, sia su tre sedute che quattro sedute settimanali e anche diciamo l'organizzazione con l'allenamento con i soli manovre ovviamente c'è la versione uomo che punta a determinati obiettivi e la versione donna che appunto ovviamente ha gli obiettivi più dedicati alle donne quindi anche quest'anno chi di voi le vuole provare vi divertirete dico sempre che comunque sono dei percorsi a basso costo perché se pensate quanto costa tutta la programmazione con tutto quello che c'è dentro è veramente niente rispetto anche al fatto che tante volte le persone vanno sì dal coach online, scheda personalizzata e poi tante volte non tutti fortunamente vi rifilano la scheda prefatta, vi fanno pagare anche 50, 60, 100 euro al mese e lì avete la vostra schedina prefatta che poi guarda caso a volte è uguale a quelle che escono nelle mie programmazioni annuali solo che qua le pagate 10 volte meno perché ogni scheda poi alla fine la pagate 1-2 euro se ci pensiamo al mese comunque a parte questa piccola premessa le tecniche che ho utilizzato adesso elenco qua poi ci sarà modo di andarle a spiegare comunque come sempre all'interno trovate 10 mesocicli di lavoro si parte dalla prima che ho messo il piramidale 12, 10, 8 organizzate in una certa maniera poi con il sistema 15-4 del famoso Vince Gironde secondo mesociclo incominciamo ad alzare i carichi quindi incominciamo a fare una preparazione di forza con un 3x6 e poi il famoso metodo 10-20 poi anche qua questo lavoro per serie 10-20 ve le spiegherò poi abbiamo il terzo mesociclo andiamo a inserire un lavoro più orientato alla forza con il sollevatore paziente alla polykin 6x4 leggermente modificato dei super 7 e poi il mio mi piace tantissimo il super pump 7 quindi questo ve l'ho ficcato come metodologia metabolica poi abbiamo il quarto mesociclo abbiamo il 4 più 2 alla polykin un 4x5 e poi il 20-70% il 20-70% è tosto ed è una metodica metabolica ormonale quindi vi divertirete a metterla in pratica poi abbiamo il quinto mesociclo abbiamo un 6x6 alla sala un superset Eamon bello tosto e poi abbiamo una challenge sull'esercizio finale di 3 minuti e quindi anche questo metterà a dura prova i vostri muscoli e la densità dell'allenamento poi abbiamo il sesto mesociclo un piramidale a percentuali un EDT e un circuit mix settimo mesociclo abbiamo un respose un interval training 45-30-20 durissimo l'ottavo mesociclo abbiamo le 500 reps a 70% anche qua questo sarà da terribile ma siamo sul finale quindi gli ultimi sono veramente tosti poi abbiamo il nono mesociclo abbiamo il rebounder Pyramid e il 3 set ISO Xtreme anche qua rivisitazioni di alcuni piramidali rimbalzati e le 3 serie extreme e quindi qua ci divertiremo e poi ultimo mesociclo proprio quello in fase conclusiva o di definizione qua mi odiano sempre tutti quando arriviamo a questo mesociclo e qua ho messo il 3 set olistico forzato forzato perché qua cerchiamo proprio di forzare il vostro fisico a dare il massimo nell'ultimo mese questi sono i 10 mesocicli poi ovviamente chi accederà alle programmazioni come vi dicevo se vi scrivete nel link qua sotto scaricando i materiali gratuiti che ho messo a disposizione vi arriverà proprio la mail proprio quando ci sarà il lancio comunque sarà verso fine agosto penso dopo il 20 di agosto adesso non so ancora bene la data precisa però ci sto lavorando su ma è tutto quasi pronto e vi assicuro questi metodi sono tremendi sono tosti possono arricchirvi sia se siete amanti dell'allenamento sia se siete trainer perché comunque sono tecniche utilizzate da un altro coach che le ha prese in prestito da alcuni autori internazionali le ha rivisitate e le ha messe in comode schede da applicare immediatamente quanto durano queste sedute? dureranno circa 70-80 minuti quindi un tempo normale per riuscire ad allenarsi seriamente e ottenere risultati queste sono un po' le metodiche che vi ho inserito quest'anno in massa naturale quindi spero che vi piaceranno ma poi sarà a voi darmi i vostri feedback magari qua ci sono i feedback di chi ha messo già in pratica altri miei workout altre programmazioni e quindi ben lieto sempre di leggervi come sempre grazie per l'attenzione spolliciata e ci si vede in un prossimo video ciao ciao